Dalla serata di oggi fino alle 24 di Pasquetta, lunedì 10 aprile, il parcheggio coperto di Santa Chiara Sulmona sarà aperto 24 ore su 24, giorno e notte. La novità è starà disposta dall'assessore comunale Attilio D'Andrea per favorire la mobilità nel centro storico durante le festività pasquali. Sulmona quindi si prepara all'assalto di turisti. Infatti soprattutto il centro storico in questi giorni è meta di un consistente afflusso di cittadini e turisti che così saranno agevolati nel trovare il posto auto. L'amministrazione comunale, come già annunciato anche nel recente tavolo del turismo, intende valorizzare al massimo il parcheggio di Santa Chiara in quanto ritenuto strategico per residenti e turisti con i suoi circa 500 posti in pieno centro storico, infrastruttura che poche città possono vantare. L'apertura H24 è un caposaldo per la prossima gestione di questo parcheggio, sottolinea l'assessore D'Andrea. Con la gara si procederà in tal senso, un parcheggio importante per snellire la pressione delle auto in centro che andrebbe però più valorizzato a partire dall'apertura non stop in modo permanente.